Siete davanti? Lo mettiamo un po' più di qua? Ah, non parlate tutti insieme? Non sapevo. Stanno attenti? Va bene, la lasciamo qui che si regola bene perché la luce è in onda. Siamo pronti perché adesso c'è di nuovo la più bella, la più magra, la più sexy, la più mora, la più sturbante in un pezzo di chair. E con noi di nuovo la flair du mal. Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.